bella 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 ragazzi marco drums games trophy sempre sul pezzo far cry 6 trofeo tecnologia obsoleta ragazzi andate al banco di costruzioni dove ce l'avete nella base parlate col tipo e dovete avere tutto sbloccato ok raga questo qui la regione della guerriglia perfetto adesso poi andiamo ecco qua andiamo dal reclutatore di bandidos la caserma di bandidos e compriamo la fascia da tecnoguru perfetto indossiamola eccola qua eccolo qua fascia da tecnoguru usa perfetto praticamente schiacciando il triangolo il sabotaggio degli allarmi bella lì adesso mettiamo in pratica il trofeo non dobbiamo farci scoprire in qualsiasi posto di blocco o dove volete voi eh ok eccolo qua quello che prima non c'era sabotaggio dell'allarme ok adesso facciamo facciamo di chiamare ed ecco tecnologia obsoleta facile indolore e bellissimo come trofeo perché comunque far saltare in aria le persone con il loro allarmi non è di certo una brutta cosa ok ragazzi allora io vi saluto vi ringrazio e seguite sempre i trofei e tutto quello che porto sul canale e mi raccomando ragazzi eh di seguire su youtube facebook twitter instagram tiktok e twitch e soprattutto mettere mi piace commentate e attivate la campanellina su youtube e twitch ragazzi con questa è tutto il trofeo velocissimo tecnologia obsoleta che se non l'avete fatto durante il gioco base potete farlo tranquillamente come vi ho fatto vedere io ciao ragazzi da marco drums games trofei hunter e tutto alla prossima ciao mitici ciao 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 ciao